sono te stesso nel 2050 chiamo dal futuro quello che ti serve adesso è la lucidezza senti questo annuncio di lavoro cerchiamo uomini per un viaggio molto rischioso paga bassa e molto freddo molti giorni di completa oscurità pericolo costante molti dubbi sul fatto di tornare sani e salvi onore gloria in caso di successo ma l'inverno è alle porte grazie alla lucidezza sa che non sarà possibile essere salvati su quell'isola che è fuori dalle rotte delle baleniere c'è un'unica folla impresa che può essere compiuta mettere in mare la più robusta delle scialuppe tentare con solo una carta nautica una bussola e in sei uomini di raggiungere la georgia del sud sede di una base baleniera ma distante 1600 chilometri per giunta nel peggior mare conosciuto dall'uomo per tempestosità con onde alte 10 metri e all'inizio dell'inverno storie di superpoteri che ci circondano